A Napoli la nota pasticceria Scaturchio perde la licenza nella sede di San Gregorio Armeno, protagonista la delibera fortemente voluta dall'amministrazione Manfredi per porre in essere il divieto di apertura di attività dedicate al food and beverage. Limitazioni partite da Palazzo San Giacomo che riguardano soprattutto l'area coperta dal circuito Unesco di San Gregorio Armeno, che sono state sottoscritte poi dopo qualche settimana anche dalla regione Campania. In virtù del provvedimento del comune di Napoli, l'antica pasticceria Scaturchio, la cui prima sede storica risale al 1905, per il punto vendita in via San Gregorio Armeno si era vista notificare l'ordine di abbassare la saracinesca. Da qui parte la contestazione netta della proprietà, che decide di impugnare gli atti e di fare ricorso al Tar. Scaturchio perde e si è rivolto come ultima spiaggia al Consiglio di Stato, che dovrà pronunciarsi nel corso della settimana prossima. Palazzo San Giacomo attende alla finestra al di là di Scaturchio. Resta la mission di salvare il centro storico per limitare l'invasività davvero eccessiva di bar, baretti e botteghe di food e per cercare di tutelare l'identità del centro antico.